Benvenuti all'Anime Day E quest'oggi Osu E ci facciamo un bel live play di 30-40 minuti E... ebbè si Ci vuole Pronti, via Allora Che possiamo farci E' uscita questa quando ha aperto Osu Quindi Riscaldiamoci con canzoni a caso Tipo, si Axel Ward Axel Ward Come cazzo E' uscita questa quando ha aperto Osu 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 Eh, mi devo ancora riscaldare Nonostante... ho scoperto una cosa ieri Che è... spinno dalla parte sbagliata Ecco perché spinno così poco Però... eh... nonostante ho scoperto questo Mi sono reso conto anche che Io gioco con la penna nella mano destra e... Tappo, cioè premo Q e V per le note Con la mano sinistra I giocatori che utilizzano la penna nella mano destra Devono avere... eh... Cioè devono spinnare in senso anti-orario Quindi devo fare dei giri Verso sinistra Io invece spinno dalla parte... dalla parte opposta Con naturalezza poi Quindi spinno in senso orario Io in senso anti-orario non riesco a spinnare E quindi, eh... non spinnando in maniera fortuna Alla mia... alla mia mano Spino piano, piano Fino a 400 arrivo Invece altre persone come Mephix Che mi ha detto... che... quelle cose che ho detto poco fa Cioè che spinna, deve spinnare in senso orario Lui spinna a 4,70 Infatti è bravissimo, è ventiquattresimo Nella serie, nella lista di persone brave E... niente... e niente che... Tipo i primi posti Se... se li mangia Ma mi ha rotto le palle Sto... sto cellwarn Allora, che possiamo fare? Possiamo andare a farci... Stream... Delle mappe per... Iniziare un po' a prendere la mano con lo stream Allora, streampratic map 2 Streampratic map Non stream Streampratic Come dovete vedere qui ci sono 5 mappe Tra cui Freedom Dive Che ho fatto un video al riguardo Se... ovviamente questo video lo vedrete più avanti Perché... verrà pubblicato domani Oggi è mercoledì E quindi il video riguardante Freedom Dive lo vedrete più avanti Comunque... a seconda dei BPM È la velocità con il quale... che... noi dobbiamo premere le... le note Quindi iniziamo con un... Questo che cos'è? Ah, 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 ah Questa è stabile a step mania Tra l'altro vedete anche le stupidaggini che faccio con il mouse Si sente che premo Tac, 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 tac Spero di no Queste so... servono per riscaldare Non... vi conviene fare... se volete veramente riscaldare Le fate una... una lenta Tipo questa Così non vi... non vi stancate Non importa se fate i 100 Eh, non importa neanche se squilla il telefono Che se ne frega Dai, oh, mi sto stancat, però Wow, una fantastica scintillante D Era contro te Basta chiamare Guarda, non nemmeno rispondo Beh, diciamo che... vabbè, può bastare così Perché se no mi stanco troppo Non vi serve... non ci serve che le fate tu Cioè, se avete finito di giocare a osu per la giornata Vi finite in bellezza con una roba del genere Eh, magari faremo così anche noi Eh, allora, andiamoci a fare adesso Delle canzoni di Demetori Demetori Perché sono molto belle Non so se a voi piace il metal o cose del genere A me piace un po' tutto Eh, Demetori fa delle cover metal Di canzoni di Toowow Quindi... Due piccioni con una fava Durano tantissimo Quindi... Per il momento uno le fa e basta Quello che fai, fai Full combo non se ne parla per ora Ma che cosa è un po' tutto Alla prossima. No, non voglio fallire Non mi avrei mai Certe volte mi inciampo proprio con il ritmo Faccio certe cappellate Tipo questa, tipo questa Allora Vedete, non riesco a prendere pp, Cristo Dovrei fare le hard Ma chi le fa le hard? Poi ci ho fatto b Che tristezza Anche qui b Emotional skyscraper La vedrete Perché l'ho fatta Non ci ho fatto il video Questo ho paura a farla No, l'ho fatta prima Extra stage 376 No, hard 376 Extra stage 239 Vediamo se è quella con Con delle note piccole No Se non sbaglio Mi pare di aver capito Che è un casino di rough drain Yeah No, no Lo soir No Oddio, sono andato a occhio lì, come potete vedere spinando senza orario pianissimo, nooo 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 cristo stanno fissati coi gli stream alla fine dello slide eh è all'inizio se non missavo quella stronzata facevo 900 di combo dai un bel po' all'inizio a un po' di calma meno male no ma vaffanculo ho premuto pure ho premuto pure esco per sbaglio vabbè e niente niente non si può fare perchè doveva avere il life drain doveva avere life drain allora il life drain è praticamente quando noi sbagliamo una nota ci toglie della vita in questo caso il life drain era molto alto perchè sbagliando pochissimo tipo missando una nota ci toglieva quasi metà vita e questa è una rottura di cazzo perchè se io la voglio fare devo mettere forza no fail io no fail non lo metto perchè mi dimezza mi dimezza il punteggio e poi vado a finire il novemilesimo è un bel cazzo allora adesso ci facciamo ci andiamo eh da s e andiamo in giù oh ryu 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 è il momento di riprovare no go beyond dai ryu ah no non stava qua caramelli eccola è un bel po' è dalla prima era la prima era il primo episodio di eosu diary che non la rifaccio ma proprio per niente ah una cosa kukiezi non gioca più quindi egli hanno pure hackerato l'account quindi se lo vedete online non è lui è quello che egli ha fregato l'account che è stando a quello che c'è scritto sul suo profilo su osu di kukiezi c'è scritto cioccoliti bla 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 in coreano cioccoliti bla 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 questo cioccoliti probabilmente gli ha fregato l'account infatti è andato pure online ha fatto pure uno streaming dove vi fa vedere che lui c'è l'account di kukiezi vabbè comunque segno di militare a kukiezi rivederci campione indiscusso migliore della di tutta la storia di osu e andate a rivedere play sarete sicuramente sicuri dato che ho parlato un po' a vanvera per riposarmi un po' le mani da quella di prima che era tipo sono fissati quegli stream al diametorico e noi ci facciamo un questo e e Grazie a tutti. Ma dai. Grazie a tutti. Che palle. Grazie a tutti. L'ho fatto fa peggio. Che fastidio. Tutto è uno slide break ho fatto. Tutto. Oddio mi sono giampato da tantissimo. Esquipo. Che schifezza. Che schifezza. Vabbè. 21. Ma niente di che siamo lì. Però. Ho dato un po' le palle. 3 milioni e 4 ho fatto. Ma scusa ma. Ma Rezui. Ma sta gente. Ma che problemi c'ha? Ma dov'è la calma? La devi imbibare un po' costosa. Tico un po' di phantom. Tanto. Non mi togli i gommelli che rompono il cazzo. Ma che cazzo. Io avevo già messo da tutto. Sto giocando io. Sto giocando io. Sì. Sto giocando io eh. Guardi che fatica. Oddio. Sto facendo per cento. Guarda sono bravo. Sto giocando io. Sto stato bravissimo. Ma è inutile che la finisco. Perché sei troppo forte. A proposito di Miku. Gumi. Allora. No. C'erano delle canzoni vecchie di Gumi. Meglio poi. Ecco. Sto giocando. Cioccolare. Cioccolare. Una volta. Cosimo. Devo fare insane. Ancora non riesco a fare insane. Non c'ho problemi. Qualcosa che non... Eh. 1020 oggi. Gesù. Eh. Iniziamo bene. Proprio bene. Bene. Benissimo. Sul bello. Mo' si che iniziamo bene. Per te vado in suono slide 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 slide. Reverse slide slide slide. Devo capì. Devo fare due o tre volte. Se no. Vabbè che probabilmente rovesse rovesse. 100. Trovia un muco. Eh vabbè. Oddio. Oddio. To be... Ma non è Kimo, si Spendiamo sulla tetta, va Ti darà più forza Ho paura per la solo finale Ecco Di questo ho paura Ed è accaduto Lo sapevo io che facendo questo live stream Facevo lo schifo più schifo del mondo Fastidio Grazie a tutti Grazie a tutti Ma guarda che schifo Guarda lo schifo Guarda che schifo Guarda che schifo Che non posso fa Che non guarda Eh vabbè panico di suoni Che non posso fare Lo posso fare slate break Questo gioco è stronzo Diciamo veramente Veramente con Double time Ah nightcore Ma che schifo Ma che cazzo è Come si fa a non sbagliare niente Si vede che sono Sono uno stronzo Che non so Gioco Mi viene una frega Allora ci facciamo Questa Eh Ecco Prima di risaltare sta Anche se a me Grazie a tutti Ma che cazzo è Non è vero Ma quanto cazzo non era vero Quanto Un ammontare di Di falsità enorme Grazie a tutti Tutte volte Mi sembra di non premere E invece Eh ah Comunque A prenderemo Ho fatto due miss Se non sbaglio Un slide break Mi sembra di non Mi sembra di non Dio che palle, che cazzo di fastidio è mio, madonna quanto mi mettono nervoso i mist, porca troia che fastidio, e basta con questa casilla di suono, io ne so, dai se sei un'altra volta no, porca face, questa è bella però go, facciamo, tanto ormai mi sono finito a rendere dico, non riesco a finirne una, giustamente il culo di quando registri non riesco a finire, non riesco a finire, non riesco a finire, è un'altra volta questo cazzo di slide vaffanculo non si capisce niente adesso prende una dopo l'altra ma adesso sceglie ma no ma che cazzo è oh una normal anzi faccio la hard la hard 5 stelle no non c'è montana non credo di riuscire a fendable time vediamo ma credo di no ma questa canzone è stupida va bene oh ritrai non so ma forse è una botta di culo ora riprovo alla fine guarda che devo morire alla fine no mi sa che non c'è da fare che cazzo è tipo succo di carota è schifo vabbè no non la faccio faccio la normal vediamo con i double time hard rock posso fare se spinno forte ma non spinno forte sesto vediamo quando riesco a fa ci sta tutto oh cazzo fammi togliere lo sfondo se no non le vedo ah non so non c'è la finita cacate addosso oh cazzo oh cazzo eh waouh quarantottesimo si dai guarda che schifo 2,50 ho fatto e dammi qualche pipì stronzo ritrova ma lo rifaccio cazzo era la prima volta Ah no, l'ho fatto troppo presto Ah no, l'ho fatto troppo presto Ma a pari merito Infatti, i primi 19 hanno lo stesso punteggio, che schifo Infatti, mi dice sesto, però non ci sto Stesso punteggio, non ci sono gli spinner Non ce l'ho fatto caso Stesso ha fottutissimo punteggio di merda Scusa, questo... Ah, questo ha fatto A, ecco perché E gli altri hanno fatto 100% tutte Eh, azzurro R, c'è i problemi, è fortissimo Riglone pure, spinna come un matto Ma in questa cosa è muto Perché non ci stanno gli spin Eh, basta che non sono gli sceme Per favore, che è Black White? Bella questa Ho fatto full combo A questa E penso che non lo farò adesso Quindi... Ah, che di... Ah no, l'ho fatto full combo Ok, è ora di fare un'altra figura di merda C'è... C'è dai Grazie a tutti Grazie per la visione! Grazie per la visione! Non ve ne danno se voi fate più di 500, in alcuni rari casi, dipende dalla canzone, ve li contano anche se fate tipo 600 o qualcosa così, ma per il resto se non fate sotto a 500, da 500 giù ve li contano sicuro, poi che non ve li accreditino subito è un altro paio di maniche, però maniche lunghe. Se ve la credono subito maniche... Allora... Vi faccio vedere... Ma questa è Rubik's Cube, no... Un bel cazzo... Allora ci facciamo... Vi faccio vedere una canz... Eh... With... With... With a... With a dance... Wild dance... Questa la fallisco! Però vediamo che ci usci... Fino a dove arrivo. Dove c'è il cucchiazzino del primo vuol dire che è una canzone assurda. Eh, vabbè, devo azzeccare l'inizio. Scusate la tristezza che emanò in questo momento. Eh, smettila, che mi pette l'ansia, quel coso che sto a morire. Lo studio. Tronzo. Eh, X. La sua sorella. Oh, 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 oh. Ooooooooooooh Ritornello! no! morirò non vi preoccupate oh 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 stavo bene a perdere tantissimo oh yeah spinniamo per la vittoria e lo sapevo vaffanculo o lo si fa o lo fai o lo fai quel pezzo se non lo fai ti distruggi non ero sicuro se farlo con una o due dita eh ma prima o poi la faccio e la ve la ritroverete come puntata di di osu diary non anime day questo è anime day perché anime day? beh tutte le opening che ci stanno perché non ce ne siamo fatta neanche una mettiamo railgun di certo non metteremo questo i problemi è pure brutta da sentire tipo questo eurobit charger no non ce n'è una normale eh tipo questa to haru kagaku no railgun si chiama l'anime e va andava pure al ritmo lo stavo affacondito aspetta calmi e 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 full combo è un bell'anime l'ho visto ci sono due stagioni una sta per finì e quella nuova si chiama uguale però s alla fine dico s di secondo stagione ah basta niente e allora facciamole per fare sì no basta facciamo a proposito di flipside vi faccio vedere masterpiece poi vi faccio vedere Iron Man e poi chiudiamo Iron Man per così per farmi far vedere che sono scarso fino in fondo finiamo con Iron Man ma prima eh masterpiece che è rinomata deve essere un casino di jump potenti Mesita dato che è difficile Mesita ho pensato bene mettere flashlight e prendere il primo posto e prendere anche un'altro in 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 Ma... ma perché? Dundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundund Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un po' i quadrati. Quella tripla lì era per proprio rompere il cazzo. E' un po' i quadrati. E' un po' i quadrati. E' un po' i quadrati. C'è quelle di prima le prendo, queste no. Non capisco. E' un po' i quadrati. E' un po' i quadrati. E' un po' i quadrati. Questa è la canzone che ha AR-10. Le note arrivano a una velocità incredibile. Soprattutto i jump, che oggi a quanto pare so fare meno degli altri giorni, mi metteranno in difficoltà. Quindi se vedete una frega di miss, copritevi gli occhi e mandate a dormire i bambini e i fratelli piccoli. Amici, quella. E' un po' i quadrati. Aiuto! Aiuto! Non ci arrivo mai! Mi fermo al bordo, che fastidio! Lo so che sono tutti online, non mi rompere il cazzo. Ora le prendo un po' i quadrati. E' un po' i quadrati. Qui. E' presa a metà. Poi. E' un po' i quadrati. E' un po' i quadrati. E' un po' i quadrati. aiuto eh sto facendo meglio attenzione sto facendo meglio paradosso temporale attiviamo la niente non parte è un anime credo non l'ho mai visto no 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 ho detto una cazzata dovrebbe essere un boss di Mega Man e ce l'abbiamo fatta superare anche il nostro record ok adesso finiamo in bellezza con la stream la mappa streaming e stream e virgola ci salutiamo ci vediamo stream e ci salutiamo eh per il prossimo video di osu diary che sarà sarà eh sabato il giorno che vedrete questo video sarà giovedì allora che facciamo osu stream compilation che dura 12 non la farà tutta ovviamente ma non la voglio fare vedi adesso facciamo vi faccio vedere no dove sta questa vi do un assaggio di quello che ci sarà del video che ci sarà se la passo allora se la passo adesso il video non lo carico perché nel video muoio perdo a un secondo dalla fine invece se la passo adesso è inutile che ve lo faccio vedere quando fallisco no ma non credo di passarla stream a 220 stream a 220 c'è sicuramente ci sono sicuramente persone che la sanno fare bene io no io no Ti prego, ti prego, no! Sì, e vai, che culo. No! Un po' di riposo. Tori, tori, tori. Tori, tori. Tori, 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 tori, tori. Wow, la passa! La passa! Campioni del mondo! Oh mio dio! 68 miss, sì! Guardiamo qui! Il perfect! Eh, non è ranker. Quindi ci salutiamo con questo fantastico record e questa musica epica e ci vediamo al prossimo video! Ciao da parte i Freakbanks e dai su! Ciao! Ciao! No! G Away! Come on in Baby, baby Get on in